quindi tantissimi di voi stanno facendo una scuola senza i voti tranne quelli di quinta mentre tutti gli altri bambini quando vanno a scuola prendono ancora i voti invece noi vogliamo fare una scuola dove è meglio imparare una scuola dove ci si alimenta quindi se vedo un bambino o un mio amico che è in difficoltà io gli do una scuola è una scuola dove anche i genitori possano collaborare con gli insegnanti ok tutte queste cose il maestro le ha raccolte in questo film che noi oggi gli consegniamo attenzione bene gli consegniamo e una volta al mese in cominciare da questa campina con la maestra di italiano si legge una capitolo un capitoletto una lettera di questo libro ma attenzione dopo aver letto una lettera di questo libro si apre una discussione tra di voi e poi il maestro Ferdinando aspetta una lettera nella quale raccontate che cosa avete discusso ok pensate che bello è lui è in attesa delle vostre lettere nelle quali raccontate ciò che avete discusso il titolo è molto bello perché dice vi insegno a prendere il voto ma il volo questo è il compito di ogni maestra ma è anche il compito di ciascuno di noi far prendere il volo agli altri iscriviti al nostro canale iscriviti al nostro canale